22 nuovi pozzi da realizzare entro agosto per dissetare la Toscana in preda alla siccità. Totale 4 milioni di euro che il presidente della regione Enrico Rossi con un decreto ha chiesto al governo di poter spendere con procedura d'urgenza. I pozzi saranno costruiti all'isola d'Elba, in Lunigiana, in Versilia, in Valdelsa, a Cecine e a Volterra. Con il piano straordinario per la gestione della crisi idrica, la Toscana ha chiesto anche altri 12 milioni per ulteriori opere da realizzare più avanti sul territorio regionale. Questo adduttore tra la Lunigiana e Livorno per 13-14 milioni e altri interventi per 4 milioni per la riattivazione degli invasi privati in agricoltura, per supportare la riattivazione di questi invasi privati. I lavori previsti dal piano riguardano le zone più in difficoltà della Toscana. Sul piano dell'approvvigionamento idrico a uso potabile, ha detto Rossi, la Toscana infatti ha già messo a punto 112 interventi per 32 milioni di euro. Ora ad aver bisogno di aiuto è soprattutto l'agricoltura, e specialmente in Maremma, dove i danni stimati sono per 150 milioni. Noi non possiamo perdere la nostra agricoltura, non vedere il Gran Turco che cresce, i girasoli, oppure rischiare addirittura di perdere le nuove piante di viti che sono state reimpiantate di recente. Il 19 luglio una nuova riunione per programmare le opere di carattere più generale da realizzare in Toscana. Il 19 luglio una nuova riunione per programmare le opere di carattere più generale da realizzare in Toscana.